Guido Guidesi, per la Lega Nord questa legge di stabilità è incostituzionale, perché? Beh, è una legge di stabilità che il Capo dello Stato non potrà mai firmare dal nostro punto di vista, perché l'allora Presidente della Commissione Bilancio Giancarlo Giorgetti aveva messo dei requisiti ben precisi attraverso i quali si poteva formulare la legge di stabilità, quei requisiti non sono stati rispettati, non sono stati rispettati perché il governo e la maggioranza hanno trasformato una legge di stabilità che dovrebbe essere programmatica dal punto di vista delle scelte del governo e dei fondi destinati e quant'altro così in un marchettificio, ci sono marchette ovunque agli amici degli amici, è una cosa insostenibile, è una cosa anche dal punto di vista della legalità illegale, assolutamente abbiamo sollevato il problema e adesso vediamo cosa fa la maggioranza. Ci sono risorse per gli enti locali? Ma no, non ci sono risorse per gli enti locali, non è stata affrontata la questione del patto di stabilità, non è stata affrontata la questione del patto di stabilità per i piccoli comuni, che per cui inizieranno ad averlo dal 2014 come era previsto e questo andando praticamente ancora una volta a smentire, il PD oramai è solito fare queste cose, sul territorio dice una cosa e invece qua ne fa delle altre. Per quanto riguarda Sorgenia, che cosa si dice nella legge di stabilità? Nella legge di stabilità ci sono due commi che fanno riferimento proprio all'amico De Benedetti, all'amico del PD De Benedetti, praticamente attraverso questi due commi si dice che per le centrali che sono state insediate sui territori dal 2002 non devono gli oneri di urbanizzazione ai comuni, non devono gli oneri di urbanizzazione, abbiamo fatto un piccolo conto, fa risparmiare a Sorgenia circa 20 milioni di euro e il governo ha deciso di prendere la parte di un privato, di invece condannare ancora una volta gli enti locali che subiscono l'insediamento di queste centrali, lasciamo perdere che se sono utili o non utili di sicuro inquinano, ci potevano essere delle compensazioni per il territorio e invece il governo diventa l'avvocato di De Benedetti.